oh no 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 non mi guardi così lo so oggi sarà durissima ne vivremo e ne sentiremo di ogni però mi raccomando è non muova un muscolo partiamo pioli non d'arretta le chiacchiere adesso stai tranquillo che tutto si risolga padre pioli buona fortuna per l'europa posso offrire a mister pioli un brezzo da cioccolato grazie ancora per lo scudetto grazie pioli per sempre per lo scudetto ma per il resto io lo vedo un po ingessato ci sarà qualche motivo io l'avevo detto che sarebbe stata durissima oggi e gli ho portato il caffè so che ci tiene molto i suoi riti l'attenzione è tragica mister dobbiamo vincere al newcastle tutti gli amici interisti mi fanno un paiolo così andiamo a vincere mister e poi alla fine non è andata malissimo e dai qualche consiglio qualche in bocca al lupo però adesso andiamo per iniziare la partita comunque quel caffè ci voleva proprio